Ciao a tutti e bentornati su MTV! Nel video di oggi condivido con voi un po' in chiave comica i pensieri o le cose che faccio prima di addormentarmi e quando non riesco a dormire e sono lì che mi rigiro nel letto sono esausta ma non si sa perché improvvisamente mi trovo tutte le energie del mondo e non riesco anzi più ad addormentarmi spero di non essere l'unica che capitano cose del genere quindi scrivetemi qui sotto nei commenti se anche a voi capita di pensare queste cose così mi sento un po' meno sola perché so che c'è qualcun altro che se la passa come me nelle notti insonni spero che questo video potrà farvi un po' ridere e magari possiate riconoscervi in alcune di queste situazioni prima che diciate qualcosa sul fatto che sono truccata sì, io non dormo truccata in questo video sono truccata anche se in teoria è la prima di andare a dormire però l'ho filmato adesso e quindi o così o così dovete accontentarvi non è del tutto realistico però spero comunque possiate farvi due risate buona visione ho già guardato sette puntate di seguito di queste serie tipo forse è ora di andare a letto ah, mi metto comodo no no oh Dio oh Dio dove hai il mio cellulare? oh no oh mio Dio com'è che questo letto riesce sempre a mangiare tutto quello che c'è appoggio sopra? oh Dio no schermo troppo luminoso così va meglio allora se punto la sveglia per le sette e ora è mezzanotte dormirò sette ore beh dai sì, è abbastanza dai va bene chissà come si chiama quel ragazzo che ho visto per strada stamattina era proprio carino chissà se lo rivedrò mai più au mi dà fastidio sento un dolore alla spalla sinistra non è che è pericoloso ma è normale cerchiamo su internet oh mio Dio secondo questi siti web mi restano poche ore di vita dovrei scrivere un messaggio di addio alla mia famiglia non dimenticatemi sappiate che vi ho voluto bene grazie per tutto quello che avete fatto per me mmm quant'era buona la pizza che ho mangiato oggi oddio mi è venuta fame sbaglio o non si dovrebbe mangiare prima di addormentarsi no non riesco a mettermi comoda oh mio Dio oh che caldo oddio ma se tengo i piedi fuori dalle coperte i mostri mi mangeranno non riesco a respirare oh mio Dio ora mi è tornato in mente quel film horror lo sapevo che non dovevo guardarlo un'altra estate arriverà e compreremo un'altra e poi un tuffo nel mare proviamo a contare le pecore se è un metodo così famoso o ci sarà un motivo uno due tre quattro cinque sei no ovviamente non funziona oddio ma l'ho puntata la sveglia ah sì aspetta aspetta sono già le quattro oh no ci ha mai pensato qualcuno al fatto che in realtà potremmo essere tutti dei sims controllati da qualcuno? oddio ma sono un genio ho sete ma se bevo poi mi farà la pipì dannazione ok forza e coraggio Emma è ora di mettersi a dormire non puoi più rimandare dai grazie per avermi dato questo video se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e quali situazioni riconoscete o cosa pensate o fate voi quando non riuscite ad addormentarvi spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video eeeh spero eeeh eeeh ciao a tutti